L'obiettivo è quello di raggiungere, entro il 31 dicembre 2019, l'80% di raccolta differenziata, importante per un risparmio in bolletta di cittadini, e quanto sostenuto dall'assessore del comune di Castellabate, Domenico Di Luccia, in merito al nuovo calendario di raccolta, partito ufficialmente da ieri, domenica 24 febbraio. Noi abbiamo fatto circa un mese di sensibilizzazione, di informazione, siamo andati nelle scuole, abbiamo coinvolto tutte le realtà territoriali del comune di Castellabate, cercando proprio di far capire e comprendere questo che è uno degli obiettivi fondamentali di tutela e di salvaguardia del nostro ambiente. Castellabate parte da risultati eccellenti, siamo circa al 55% di raccolta differenziata e vogliamo raggiungere nel 31-12 2019 un risultato ambizioso al massimo. Mentre sto parlando, le dico pure che questo clima di entusiasmo che si sta creando nella comunità di Castellabate ha fatto sì che siamo passati già nel giro di un mesetto recuperando circa due punti percentuali, quindi siamo circa al 57% di raccolta differenziata. Questo risultato ambizioso è quello di raggiungere nel 31-12 2019 l'80% di raccolta differenziata. Questo perché è importante? Perché determina un risparmio in bolletta dei cittadini e quindi invito i numerosi cittadini di Castellabate, i numerosi vacanzieri, tutti coloro che avranno la possibilità di venire nel nostro territorio, di rispettare scrupolosamente questo nuovo calendario di raccolta, proprio per migliorare la tutela ambientale e il decoro soprattutto del nostro territorio.